Dopo 12 anni dal terremoto, i vigili del fuoco aquilani attendono ancora la ricostruzione della loro sede centrale e dicono no al progetto di ricostruirla nell'area di fronte alla vecchia sede del comando, dove ora sorgono i map. Le ragioni del no sono tante, a partire dalla metratura dell'area, non sufficiente, ma anche per ragioni logistiche legate all'attività di soccorso propa dei vigili e di viabilità. Per questo CISL, con APON, WIC, CGL, CONFSAL e USB, attraverso i coordinatori provinciali Ghizzoni, Pitone del Romano, di Aprile, Damiano e Miconi, hanno proclamato lo stato di agitazione con la richiesta di avvio della procedura di conciliazione al prefetto. È una decisione praticamente presa in completa autonomia, senza un preventivo confronto con le organizzazioni qui presenti, sindacali rappresentative del comando. È un'area totalmente che non soddisfa i requisiti che praticamente erano stati individuati nel 2019 quando ci furono una serie di incontri che proprio anche grazie alle organizzazioni sindacali riuscimmo a organizzare con l'allora ministro degli interni Salvini, dell'onorevole del sottosegretario di Stato con delega di Vigilio del Fuoco Gandiani e con ovviamente gli articoli di amministrazione. In quegli incontri si capì finalmente di delocalizzare la sede del comando perché non più consona a tutte le attività istituzionali di un comando del livello dell'Aquila. La storia della ricostruzione della sede è lunga e travagliata. Nel 2019, quando era ministro degli interni Salvini, si condivise una scelta unitaria, quella di ricostruire la sede nell'area dell'ex Caserma Rossi dell'Esercito. Successivamente si era pensato invece di realizzare il comando accoppito, dove ora c'è la direzione, e spostare la direzione in via Pescara, ma anche questo iter, come l'altro, non è andato a buon fine. I vigili stigmatizzano anche il fatto di aver appreso la scelta dell'amministrazione in modo casuale, senza essere coinvolti e senza sapere le motivazioni dell'accordo di programma. Tra questa è il comune, che è la stazione appaltante. Le sfiderie provinciali hanno fatto presente che non si escludono forme ulteriori di mobilitazione e protesta. Abbiamo problemi praticamente, prima di tutto, per questione di spazio. Secondo perché la nostra caserma, l'attuale caserma operativa, che in una parte è stata danneggiata dal sisma del 2009, Pratente insiste su una viabilità, che è quella di Viale Panella, che nel contesto urbano, quindi nel nostro caso per l'attività di soccorso tecnico in urgente, è molto limitata, in quanto usciamo a raso su questa arteria, che è un'arteria principale della città, con il rischio, tutte le volte che usciamo per soccorso tecnico in urgente, di possibili incidenti.